L'8 luglio del 2014 veniva aggredito da un rapinatore nella propria casa Pietro Raccagni di Pontoglio che morì dopo 11 giorni di agonia in ospedale. Una data quindi non casuale, quella di oggi, scelta per presentare il primo garante regionale per la tutela delle vittime di reato della regione Lombardia. Si tratta dell'avvocato Elisabetta Aldrovandi, già presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime. Questa importante figura, la prima in Italia, è stata presentata oggi in conferenza stampa al Broletto alla presenza della prima promotrice del disegno di legge per istituirla, la consigliera del gruppo misto Viviana Beccalossi. Quando si parla di reati violenti ci si occupa da sempre, io per prima, della certezza della pena e quindi la giustizia è focalizzata su coloro che hanno dato vita ai reati, coloro che si sono macchiati di determinati reati. Pochi sanno in Italia che invece le vittime vengono completamente dimenticate, non solo spesso anche nella fase processuale, le cui spese sono sostenute da coloro che oltre che aver subito determinate violenze, devono anche difendersi nelle aule del tribunale sperando di trovare giustizia in tempi giusti, a spese proprie, ma sono totalmente abbandonate a loro stesse. L'Avvocato Aldrovandi, attiva anche in Senato con alcune proposte di legge che si orientano da un lato sul fronte della certezza della pena e dall'altro sull'aumento dei risarcimento alle vittime, ricorda le ragioni e gli obiettivi del lavoro dell'autorità indipendente, istituita grazie al voto unanime alla legge 22 del 2018. La Lombardia è l'unica regione che ha la figura del garante per la tutela delle vittime di reato. Il garante per i diritti dei detenuti esiste in ogni regione, il garante per i diritti delle vittime che sono coloro che subiscono i reati e che molto spesso non hanno un'adeguata tutela. Nel nostro ordinamento è una parte eventuale realtà del processo penale. Allora che cosa vogliamo fare, che cosa vorrei fare, sfruttando al massimo anche questo ruolo che chiaramente è un ruolo di carattere regionale, cercare di mettere in contatto le varie associazioni che a livello territoriale si occupano di vittime, fungere da collante e cercare di capire le criticità, ascoltare i problemi, dare una mano anche agli utenti che subiscono i reati indirizzandoli verso le strutture competenti per un'assistenza legale, per un'assistenza psicologica, assumere anche delle statistiche di reato.